benvenuti ad una nuova edizione flash del nano tg e partiamo dalla cronaca nazionale i periti da impagnatillo nessun senso di colpa l'uomo è accusato di aver ucciso la fidanzata incinta con 37 coltellate la sentenza è attesa entro la fine di novembre cronaca in campagna allarme cessato ai quartieri spagnoli di napoli dove un uomo si era barricato in casa in un vasso minacciando di farsi esplodere la polizia ha fatto eruzione nell'abitazione e lo ha bloccato per la pagina dedicata al cinema napoli new york c'è il thriller del nuovo film di salvatores nel cinema dal 21 novembre nel cast favino e ammirati e concludendo con la pagina dedicata allo sport napoli empoli toscana e capo gli azzurri si confermano a vertice era questa l'ultima notizia di questa negazione flash del nano tg vi ringrazio come sempre per averci seguiti e vi ringrazio a restare connessi su tutti i nostri canali social a partire la pagina facebook instagram tiktok canale youtube x e sito web www.nano tv.it www.nano tv.it